Sicuramente è una bellissima occasione per tutti i commercianti e quella strada si trasforma magicamente la sera dalle 18 in poi quando inizia la festa, la strada è chiusa e quindi si anima di tutti i negozi che possono tirare fuori i tavolini dove ci sarà da mangiare, da divertirsi e tanta musica. 11 anni di successi per via romana in festa organizzata da confesercenti con il patrocinio del comune di Arezzo e il sostegno di Camera di Commercio e tanti altri sponsor. Asse principale di ingresso nella città di Arezzo dalla Valdichiana è una strada trafficatissima ma per una sera torna a trasformarsi in centro commerciale naturale. La affrontiamo molto rapidamente in macchina o comunque in scooter quindi tante attività le sottovalutiamo, non le conosciamo proprio quindi queste sono delle iniziative molto interessanti perché ti fanno vivere un territorio ma soprattutto ti fanno conoscere anche delle attività che magari non conoscevi proprio. Sarà l'occasione per far giocare i bambini con la scuola di circo, con i gonfiabili, con la banda dei piccoli e grandi chef e quindi saranno tante le occasioni. Ci sono dei punti musicali lungo la strada e ci sono poi naturalmente le scuole di ballo ospiti della festa come sempre in varie collocazioni e quindi diciamo da in cima in fondo a via romana sarà l'occasione per fare tante cose. Ci saranno anche delle scuole, delle associazioni sportive che presenteranno anche le proprie squadre e ci saranno anche attività sportive da poter fare per la serata. Ecco, la Camera di Commercio di Arezzo da sempre sostiene questo tipo di iniziative per non solo rivitalizzare un quartiere ma anche per farlo conoscere forse sotto un'altra luce, sotto un'altra forma, no? Siamo perfettamente d'accordo. Noi come Camera di Commercio di Arezzo è da tanto che finanziamo queste iniziative in tutto il territorio ma sottolineo in particolare il valore sinergico che noi abbiamo con gli enti e con le associazioni. Un minore molto importante attraverso il quale riusciamo a vitalizzare, a dare energia, a dare fondamento a tutte le varie iniziative che nel territorio hanno proprio questa vocazione di sviluppo economico ma anche in chiave turistica. È un obiettivo quello di vitalizzare anche i piccoli centri attraverso un'iniziativa così importante per portare non solo la presenza della Camera con questo messaggio sinergico attraverso le associazioni e gli enti per poter arrivare a uno sviluppo più completo e puntuale sul territorio ma anche per poter dare una chance, un'importante occasione appunto per poter vitalizzare in chiave turistica e in chiave economica questi piccoli centri.